E il ricordo è l'unica strada contro l'indifferenza e la violenza, afferma il Presidente del Senato Casellati e per il Presidente della Camera Fico, quella di oggi è un'occasione per ricordare come l'odio porta sempre ad una progressione criminale. Cecilia Primerano. Il ricordo è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza. Solo la memoria può renderci davvero consapevoli. Un richiamo a non dimenticare gli orrori della Shoah, quello del Presidente del Senato, e un invito alla riflessione arriva dal Presidente della Camera Fico. Le istituzioni devono essere impegnate a combattere ogni forma di odio, raccomanda. Bisogna tenere alta l'attenzione contro l'intolleranza. Ricordare anche l'imperativo del Presidente del Consiglio di Missionario Conte. L'antisemitismo si nasconde nella cultura del complottismo. In tempi di crisi sottolinea l'unico vaccino che abbiamo contro tali fenomeni è promuovere la conoscenza dei fatti storici. Vigilare per impedire negazionismi e amnesia, afferma il Presidente del Parlamento europeo, Sassoli. Libertà e umanità non sono negoziabili, avverte il Commissario europeo Gentiloni. Non dimenticare e non sottovalutare il monito di tutto il mondo politico. Il ricordo della tragedia dell'Olocausto in tutta Europa, uniti i studenti, i cittadini...